Ciao creatura, io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Gozai ASNA Ah, finalmente creatura, anche io posso portarti un fantastico haul di Shein, ricordando che è Shein, campane che suonano, non Shein, Shein, basta chiuso il discorso e ho fatto due ordini, se mi segui su Instagram già sai di cosa sto parlando, questo è il mio primo ordine e poi ne arriverà un altro mi è arrivato il pacchetto già da due giorni, ancora non l'ho aperto e lo voglio aprire in anteprima insieme a te un unboxing haul di cose che ho comprato, siccome mi guardo tantissimi haul di Shein fatti da ASMR Stay mi piace che lei metta il prezzo con il quale lei l'ha acquistato, ha acquistato il prodotto, lo farò anch'io però ricordatevi che io l'ho preso in offerta con i punti eccetera eccetera, quindi prezzo che poi andrete voi a trovare effettivo sull'app o sul sito, non è quello, sicuramente sarà più alto, però io l'ho comprato a quel prezzo vi faccio dare una breve spirciatina e poi andiamo insieme all'unboxing sei curiosa di sapere cosa c'è all'interno? anche io no, in realtà io mi ricordo cosa ho preso ti scrivo da qualche parte i prezzi qua, man mano che mostro il prodotto non è una collaborazione, ci tengo a precisarlo questi sono tutti tutti regali, regaloni di il nostro mio soprattutto ben amato warrior and prince, il mio guerriero principe che ormai è solo mio, soltanto mio e di nessun altro per il compleanno però lui ha deciso anche di che finanzierà questo era il regalo del compleanno diciamo che ho suddiviso in vari ordini e altri acquisti che vedrai sul canale perché così vedrà lui come sono stati spesi i soldi e anche ha deciso che finanzierà anche futuri video, video assaggi e quant'altro ecco mensilmente con delle donazioni a sorpresa che ho visto sono variabili con la quantità di euro ecco allora non è una collaborazione con Shein ma una collaborazione diciamo con warrior and prince possiamo dire così cosa ne pensi warrior and prince comunque ecco il primo ordine di Shein che ho potuto effettuare grazie alla tua generosità ho preso queste quattro spugnette per beauty per il fondotinta e la cipro soprattutto fondotinta hanno dei colori bellissimi soprattutto quello lilla mi piace molto peccato non ce ne sia una verde però non si poteva scegliere poi ho preso magari più avanti mostrerò indossate le cose che ho acquistato però per adesso no perché c'è fritto ho preso questo paio di calze che ha visto così non si capisce però magari metto una foto di Shein quest'estate comunque le indosserò hanno questa fantasia tipo sembrano quasi ragnatele poi ho preso questi giochi che su Shein chi pazzi che Shein sa che chiamano giochi per gatti ma non sono per gatti sono per le persone artistiche in realtà non si poteva scegliere il colore i colori erano random mentre ne mandavano due e io ho beccato questo con le sommature i toni del bianco azzurro e blu neanche niente di verde purtroppo e queste con fucsia rosa e giallo forse mi piace di più questo e il semplice allora me li aspettavo più grandi è molto piacere non so se avete sentito casino vicini bello mi piace lo userò in ufficio questo antistress molto bello mi piace mi appaga molto devo dire lo consiglio questo molto bello ok non perdiamo tempo perché ci sono un sacco di consigli da farti vedere creatura ho preso questo strumento che ho acquistato per fare le verdure a julienne e ho letto dalle recensioni che è molto affilato che funziona molto bene niente vicino ci si fa il casino è arrivato con la protezione anche se ne è tolta una aprendolo comunque è come uno spuccia patate solo che con la differenza che fa tutti strisciolini la verdura a striscioline dalle recensioni dicevano che era proprio un buon prodotto perché ne ho cercati da tante parti ma costano tantissimo questo strumento e invece lì aveva un prezzo buonissimo mai visto quindi ho detto ok se le recensioni sono oneste allora però lo proverò io poi ti farò sapere creatura perché quest'estate voglio fare un bel po' di cose con le verdure anche crude quindi tagliarle a mano è una rottura invece quello zza 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 si fa presto qui c'è una cosa che non posso mostrarti è un indumento abbastanza sexy porno è una specie di tuttina perché che prendi queste cose perché a me piacciono come quelle cazze lì questi qua dirai ma ci puoi uscire no ma posso usarle a casa per farci cose cose eterosessuali per dire allora praticamente è una faccio vedere una foto se si può non lo so non lo so se posso vedere la foto non mia ovviamente della modella di Sheen comunque è una specie di tuttina di rete nera con il buco dove c'è la patong perché così la usi senza togliertela ok a me piacciono queste cose c'è un fetticismo non lo so però a me piacciono queste cose solo volevo prendere un sacco di tempo fa su Amazon costa tantissimo e l'ho trovato lì tra gli sconti flash a pochissimo e quindi l'ho preso ed è mi è arrivata verde non ci credo è una spugna per togliere la pelle morta invece di troverti fare lo scrub passi questa io non so se funzioni voglio troppo provarla arrivava un colore random e stavolta sono stata fortunata perché c'era blu bianca forse rosa e verde la proverò magari su Instagram ti farò sapere se funziona però su Amazon costano tantissimo e poi non te ne mandano una io ne volevo una e basta da provare quindi ne ho approfittato appena visto lo sconto ho preso la lumachina triggerosa adesso la apriamo insieme penso fosse più piccola invece è arrivata bella grande sono contenta il vicino sta facendo i pesi quindi sta buttandoci il peso ogni volta che si sente fai 4 mila è bellissima allora questa la prima volta l'avevo vista su TikTok che andava di moda tra gli artisti ASMR di TikTok e l'ho vista poi il genetico la costa tipo dai 7 euro in su c'erano dei colori bellissimi questo non è proprio no è abbastanza un arcobaleno si in realtà perché sulla foto i i colori erano non erano in ordine mi triggerava male sta cosa e invece è ordinata guarda ed è veramente un solo super strano bellissimo trigger uso già bellissimo che bella che bella e anche questo potrebbe essere per le persone mistiche però potrebbe essere uno steaming anche questo giochino qua che anche lì viene proposto per gatti ma non è un gioco per gatti lo darò sempre per vedere cosa fa però non è un gioco per gatti delle calze tipo parigine che arrivano fino a no io non sono appassionata dei calze non ho l'ossessione per le calze io ho tipo potrei fare un video io ho la mia ossessione per tutte le calze con le cose un po' porno un po' porno però non si può qua su YouTube quindi niente comunque sono calze che arrivano al ginocchio e sono nere e verdi troppo belle c'è scritto oddio è wrong way aesthetic on lock lock belle morbide elastiche belle non vedo l'ora queste ci posso anche fare un cosplay di un personaggio non ti dico chi un personaggio che ha molte personalità che è una specie di supereroe una ragazza un harness che sono quelle specie di cinture che vanno messe qua sul toraceno puoi usarla anche per stare in casa facci le cosacce ma in realtà le ho comprate principalmente per indossarle fuori perché ho in mente un outfit troppo creepy cute pastel gold no non è pastel però vabbè ho un vestito bianco con le maniche tre quarti bello che sembra una cosa tipo carinissima tipo da prima comunione e vorrei troppo indossarlo con questa harness qua sopra che è quella tra l'altro che avete votato voi su instagram che io ero indecisa tra due diverse e tu creatore hai votato questa io l'ho comprata voglio metterla sopra e poi indossarlo con gli anfibi fantastico lo vedo l'ora guarda secondo me questo outfit bellissimo questo è stato perché è stato più primaverile ma dato che piove sempre non lo posso mettere però da giugno lo metterò troppo bello questo per l'estate per i miei gelati anche questo anche da tiger costava tantissimo quindi io quando ho visto il prezzo qui ho detto vabbè lo compro non so perché normalmente nei negozi questi utensili costino tantissimo poi qui su shin si trovano poco quindi per fare le palline gelato perfette proprio come piacciono a me come in gelateria ecco a te passione gelataia so che mi stai guardando tu sai manca un prodotto quello che faceva più ridere tra l'altro non è che l'hanno messo qua dentro mi sembra così zozza aspetto a che guardo no vabbè manca una cosa avevo comprato anche una frangetta finta volevo mettermela qui in diretta ma non mi è arrivata ho preso questo che per mia mamma puzza comunque i ventagli di solito costano un botto anche i ventagli di stoffa scusa ma è bellissimo allora avevo paura che non fosse come in foto ma lo è puzza tantissimo ma è bellissimo dato che mi si era rotto l'orologio mi sono comprato questo tipo Casio però è super estetic perché è trasparente super bello mi piacciono le cose trasparenti di continuare a illuminarsi però vabbè e l'odore è bellissimo cioè è stupendo è proprio come lo immaginavo non vedo l'ora di indossarlo mi piacciono queste cose molto anni 90 trasparenti plasticose per me sono il top ultima cosa ho preso questo per l'auto praticamente è c'è la spugna per pulire i vetri e poi di qua c'è il coso per asciugare il vetro lo pensavo tanto più piccolo per il prezzo e poi il manico è in realtà si può inserire un liquido e si spruzza per pulire il vetro cioè è geniale poi è verde non pensavo mi arrivasse verde tra l'altro è verde e quindi devo solo capire come si apre senza spaccare tutto però mi metto lì con calma e quindi è piccolino pratico per la smart ci lavo il vetro e cioè super approvato peccato che non sia arrivata l'unica cosa che mi faceva troppo ridere che volevo provare nel video che sarebbe stata l'anti prima della copertina del del video però vabbè pazienza e che era appunto questa frangetta finta che non so se neanche non so neanche se avevo scelto il colore giusto e però vabbè avevo pagato i punti mi è piaciuto tutto era anche più bello dal vivo e quindi niente spero che questo video ti sia piaciuto io ringrazio ancora Warrior and Prince per avermi omaggiato di questi doni a sua insepputa perché alla fine lui mi ha fatto la donazione io mi sono comprata quello che volevo vedrai poi altre cose che mi sono comprata più avanti quando arriverà il prossimo ordine spero arrivi la frangetta perché io la volevo e per cambiare un po' look anche per fare qualche video simpatico e roleplay grazie per aver visto questo video se ancora non l'hai fatto iscriviti al mio canale metti un like attiva la campanella mi raccomando creatura per restare sempre aggiornata ai nuovi video nuovi hall nuovi suoni dei vicini nuovi hall e nuove collaborazioni buonanotte buon relax ciao creatura creatura c'era la frangetta c'era la frangetta si sono in pigiama solo che allora ti racconto com'è andata praticamente sono andata per buttare il sacchetto perchè c'era allora un sacchettone bianco che all'interno aveva un sacchettone trasparente con tutti i prodotti e la frangetta non so per quale motivo non è stata messa nel sacchettone trasparente insieme a tutti gli altri oggetti ma pensino un sacchettino a parte dentro il sacchettone bianco quindi quando io sono andata per prendere il sacchettone bianco ho detto adesso lo butto via ho tastato però ho sentito che c'era qualcosa in questo mio pigiama c'era qualcosa di sostanzioso ho detto ma non è che forse c'è la mia frangetta infatti era così allora devo dire che il colore ci sta con i miei capelli perchè effettivamente se ci pensi i miei capelli non hanno un colore definito perchè sono un mix di di colori un mix di marroni e altro e quindi qualsiasi colore sarebbe andato bene e devo dire che ha è un effetto molto naturale perchè sembrano già unti quelli della mia frangetta finta e quindi è molto naturale molto realistico devo dire sto di merda sto malissimo però questo è un friendly reminder per ricordarmi quanto sto male con la frangetta e quindi ogni volta che mi verrà l'idea di farmi la frangia mi metterò l'extension mi guarderò e dirò non la faccio non la faccio questo è certo e quindi niente però potrei essere molto kawaii per qualche video e quindi lo terrò per qualche video o per qualche foto vediamo però per 60 centesimi devo dire che è sempre meglio che tagliarli però mi sta tutta sminchiata come se fosse proprio la mia la mia reale io quando mi sono fatta la frangetta mille anni fa mi ero fatta anche la frangetta e mi stava proprio così male tutta sminchiata poi ci sono dei capelli quindi tipo quelli invisibili fastidiosi che fanno parte della frangetta comunque sembra molto realistica molto messi perché non è piena stavola non c'è Sam qui con me che mi ha freddo sul posto che è dove dopo mi andrò a sedere cioè il mio letto e comunque secondo me con un cerchietto siccome io tipo con i cappelli non sto tanto bene perché appunto manca qualcosa oppure se mi voglio mettere una fascetta un cerchiello sto male perché la fronte è alta e manca qualcosa allora ho deciso che mi farò tipo questa metterò questa quando avrò tipo un cappello un cerchiello una fascetta e secondo me sarebbe anche da dio con le treccine quindi mi devo comprare uno di quei cappelli tipo da pescatore presente quelli che mandavano di moda l'anno scorso che io mettevo già negli anni 90 quando ero piccola io le medie già ce l'avevo mi prendevano tutti in giro e io ero già avanti facevo già la moda secondo me uno di quelli così oppure non lo so anche un berretto non lo so comunque con le trecce e quello lì secondo me sarebbe da dio però forse un po' un po' eagle quindi niente no boccio già questa idea taglia non la voglio no secondo me no comunque sembra già unta com'è possibile cioè appena l'ho aperta l'ho tirata fuori e ho detto ma è già unta com'è possibile che tutte le frange che io possacco siano unte questa adesso è finta io la posso lavare penso che l'effetto resti perché è fatta così forse perché era da 60 centesimi cioè da un euro in realtà forse non era molto pienotta ma di quelle un po' più costose sono un po' più piene non lo so comunque vabbè ce la teniamo come frange di reminder perché con la frangetta fai schifo però anche come pizzinatura mi piacerebbe con i buns molto che vuoi vabbè adesso davvero ti auguro buonanotte ho fatto troppo rite questa cosa e ho detto no devo fare una piccola parte dove mostro che c'è la frangetta e che l'ho indossata fammi sapere come sto no non farmelo sapere ho cambiato idea io ti auguro buonanotte buon relax già creatura adesso per davvero buon relax